A bada, Maurizio, la madama. Basta che non mi venga da rompere le palla adesso che sto lavorando. Buongiorno. T'ha detto buongiorno. Le persone educate rispondono. Le persone educate, quando arrivano in una sala operatoria e trovano il primario che sta operando la creatura, gli dicono, disturbiamo, professor Moretto. E allora io che sono una persona educata, io, gli dico, ma se figure, mi dica. Non fare lo spiritoso. Scendi. Ho detto scendi e sbrigati. Hai capito? Mi dica, dottor, dica. Perché devi soffiate a Savelli? A chi? Savelli. E che cazzo è Savelli? Stai attento, Moretto, che la gobba non porta più tanta fortuna. Ah, se è per quello, manca i corna. E' buona questa. Bravo, bravo, Riti. Ci dà il caso che Savelli è il marito di tua sorella? Senti, lascia perdere mi sorella, che mi sorella si fa sbattere. A chi cazzo gli ha pare a lei? Hai capito? Ma hai fatto male? Ti approfitti perché sono infalido, mamma. Piantala e non fare la commedia. Ma che commedia è un cazzo? Non ho capito. Mi dici pure che la gobba è un portafortuna, ma hai rotto le palle? Almeno quelle me le lasci, no? Vieni.